Buongiorno, un piccolo recap di cambiamenti studio, modalità di studio. Come ho detto in altri video, avevo deciso di lasciare la domenica libera e non studiare. Anche perché comunque io di solito la domenica, se seguite la mia storia, faccio una strategia mia per non andare più su internet, almeno di domenica. E quindi avevo pensato bene di non studiare di domenica. Adesso ho cambiato i programmi perché effettivamente, essendo che ho molto tempo, preferisco, vedo che comunque mi viene lo stimolo, non andando su internet, mi viene lo stimolo di imparare o mettere a posto magari dei documenti dello studio. Ed essendo che comunque io non faccio effettivamente durante la settimana degli orari molto pesanti, perché come ho detto in altri video, studio al massimo tre ore al giorno, non di più perché ho notato che mi stressa tantissimo. Allora io la domenica se mi viene l'impulso di sistemare o di capire certi concetti, comunque lo faccio tranquillamente, anche perché vedo che comunque non è che mi va a sovraccaricare, andare a cercare di capire due o tre cose. Quindi così, volevo informarvi di questo cambiamento. Vi auguro una buona giornata, fatemi sapere come procedono i vostri studi e confrontiamoci se vi va. Vi ricordo che il primo di ogni mese io sono in live alle otto di sera in pizza asperger, è una mia inventiva pazza per passare del tempo con voi. Alle otto di sera io sarò in live tutti i primi di ogni mese, faccio così almeno non si crea confusione e avete un punto di riferimento. E starò mezz'oretta, se comunque non verrà gente o non ci sarà interazione, chiuderò alle otto e mezza, mangiando la mia pizza tranquillamente, come se niente fosse. Stile psicopatica, esatto. E poi invece se qualcuno arriva mi tratterrò ancora qualche istante, penso andrò avanti fino alle nove. Adesso vediamo poi, ovviamente se la situazione diventa interessante, posso anche rimanere di più, però andiamo con calma, andiamo con calma. Va bene, ciao a tutti, vi auguro una buona domenica. Vi ricordo che nel canale trovate la playlist ADHD Studio. Ciao a tutti.